Ricordo le missioni per oggi, bene, la mia memoria se ne va, ero assassino, perfetto, quindi Guldan va più che bene, Guldino va bene, Guldino, chiamato Guldino per gli amici, anzi, vabbè, intanto vabbè, cosa da scegliere, voglio mettere il nuovo cosa, il nuovo skin, 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 se si entra, perché se ci mettiamo vent'anni a entrare, con calma, eh, bunga, uff, aspettando le classificate con ansia, Abbastanza agebile in mente Ah, sono io? Allora, il vetto, direi assassin, fenix, sono le tre piedi Tanto era il cosci Cazzo, però, due maghi in linea, che palle Un bel casino, però, così Beh, se c'è chromi contro si rammer, non è un grosso problema E cazzo, mi fate fare, no, non volevo fare niente Non piaceva a molti Un bel casino, direi serius, Ben, sei Però, azt метà in me sta ancora allora ricominciamo no non faccio niente vabbè però aspettatori della rovina bravo brava guarda non c'è mai nessuno non so che c'è già la morte è oltre la tua portata support please vieni Dale no ma dai ma perché non devo fare io lo sapevo la crociata chiama nessuno può fermarmi ultimo online interessante non sappiamo dove arriva con lì non sappiamo non sappiamo non sappiamo c'è una voglia di averci in mezzo pronto quando vuoi ultimo online farà divertirsi poi si va a fare quello di quello che c'era sul gioco cioè gioco quello del film di player one diventa interessante adesso te spiegami come cazzo si pronuncia Raynor il nome di giocatore ultima online proprio speriamo che sappia giocare ultima online speriamo sapevo che dovevo prenderlo io palle ma non c'avevo voglia di giocare support non ne avevo proprio voglia support support lettoli della lovina preparatevi alla battaglia metto qua sotto sto lì tranquillo dormo quando è finita la battaglia l'ambiente è finito basta la battaglia ha inizio fra dieci secondi non nascondimi nascondimi non si deve vedere cinque quattro tre due uno che la battaglia ha inizio ah si vuoi che c'è guldino guldino la vostra ora è arrivata ora capisco no no non dirla non dirla ora capisco il mio colpo è preciso senza esitazioni devo ringraziare devo ringraziare Malta mi ricarico e ritorno mi sa che con lui mi faceva questa in velocità mi sa tanto sei abbastanza intelligente da non farmi prendere le stacche ma speriamo di no vieni Malta vieni 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 dai che stronzo che non è mai possibile che non è mai possibile che si ridi un talento no cazzo ok cazzo non mi ha fatto prendere le stacche ma te ne rendi conto che bastardo non mi ha fatto prendere le stacche ma te ne rendi conti non mi ha fatto prendere le stacche ma te ne rendi conti no No いや cazzo avanzate e conquistate gli altari nel mio nome il Signore dei Corpi lo esige l'unità ha bisogno dell'altare e il nostro narr 정말 il fuoco sul custode dei morti colpite il nucleo distruggetelo un'altra volta non vi fa bisogno del nostro aiuto devo arretrare e adesso la vita è poco male non è un problema, basta non morire da cazzo questo reale è mio è mio il mio punto è preciso gli spiriti sono d'accordo bene, o stai te qua o io sto su e c'è il senso che un talento non posso giocare tanto con lui però fa la venire nel nemmo nemmo madonna anche loro sgrani 48 è troppo poco è troppo poco ho solo uno in basso 9 secondi 9 secondi c'è 8 cazzo c'è un po' 27 28 quanta violenza la loro morte è una frutta di potere non 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 2 lo la che il custode dei morti si ha dannato il mio conto è preciso la via è miglia e siamo a 34 6 punti devo fare solo 6 punti io ho finito ma ho preso la quest non lo so quanto gli è convenuto non so proprio e adesso col gargantua mi diverto prima di tutto allora 19 secondi all'altare quindi dobbiamo prendere assolutamente sì 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 ascolta la luce del tuo padrone il custode dei morti pachi per questo si ma così allora sono proprio deficienti ma sono delle teste di cazzo ok siate maledetti 8 secondi e la gara ventura si così è fatta è la verità di brucio ascolta la luce del tuo padrone 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 Grazie a tutti. Dai, ma non si può morire con The Dark Ain't, porca troia! Ma è possibile avere degli idioti? Eroi, ho aperto un tunnel accanto al nostro nucleo che porta al centro del campo di battaglia. Eroi, ho aperto un tunnel accanto al centro del campo di battaglia. Allora una volta gli altari emergono dalle profonde. Allora una volta gli altari nel mio nome. Allora una volta gli altari. Allora una volta gli altari. Allora una volta gli altari. Ma vaffanculo di maledetta giocare con gente che non capisce un cazzo. Allora una volta gli altari. Allora una volta gli altari. Allora una volta gli altari. Testa di gran cazzo. Allora una volta gli altari. Maledetta i coglioni. Allora una volta gli altari. 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 Allora una volta gli altari.